Nella prima soluzione abbiamo visto come rimuovere i duplicati da una lista di valori con un tasto di Excel. In questa seconda soluzione non solo vedremo come rimuovere i duplicati, ma capiremo anche come mantenere eventuali duplicati scartando tutte le altre righe. Andiamo nell'esempio. Qui abbiamo la solita tabellina, facciamo un clic su un punto a caso della nostra tabella. Andiamo nel menu dati, andiamo sul bottoncino che è qui sulla sinistra, da tabella intervallo. Cliccando lo si aprirà Power Query che è disponibile dalla versione 2016 di Excel in poi. Poi qui in base al numero di colonne, ad esempio con lo Shift selezioniamo due colonne così farà ragionamento su due colonne piuttosto che su una sola. Andiamo nel menu Home, Riduzi righe e qui troviamo Mantieni righe oppure Rimuovi righe. Cliccando troviamo appunto Rimuovi duplicati oppure vogliamo mantenere le righe duplicate andiamo su Mantieni righe e facciamo Mantieni duplicati. Ecco che così avremo mantenuto solo i duplicati e scartato tutte le altre righe.